Domanda che cos'è la vita? Per voi la vita è ancora illusione. Perché? Perché quello che voi chiamate amore, successo, lavoro, morte, vita non sono tali ma eventi vibratori dell'essere che vi riassume e che attraverso questi eventi evolve. Ma allora le vite raccontate nei film, nei romanzi sono l'illusione dell'illusione. Anche le biografie dei personaggi famosi? Sì, perché la vita raccontata nella biografia è stata illusione anche per il personaggio che l'ha vissuta. Allora chi vive veramente la vita? La vive la vostra coscienza che crea la vostra vita. Non la vive veramente la vostra mente, il vostro egoismo, cioè il vostro io.